Non pagavano le tasse e non versavano i contributi da oltre dieci anni, tanto da creare un buco di oltre 18 milioni di euro, di cui 16 quelli reclamati dal fisco. Nel mirino della Guardia di Finanza è finita la Comfort Pesaro SRL, una società dichiarata fallita nel marzo scorso, che aveva 80 dipendenti e forniva servizi di consulenza contabile e fiscale a 1.500 artigiani associati alla Confartigianato di Pesaro e Urbino. Nei confronti dei presunti responsabili del dissesto societario sono stati eseguiti sequestri preventivi di beni per circa 4 milioni di euro. Pur presentando dichiarazioni di erediti non ha proceduto ad alcun versamento delle imposte. Da qui proprio il nome dell'operazione F24, dal modello utilizzato per il pagamento delle imposte, che non erano state versate per importi consistenti. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Pesaro e condotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. E sotto indagine sono finiti il presidente, il consigliere d'amministrazione con delega alla direzione generale e il responsabile amministrativo della società. Altri cinque soggetti poi sono stati denunciati per aver agito in concorso con i componenti dell'Associazione per delinquere e con altri due in reati contro la pubblica amministrazione. Da una parte non pagava, da un'altra parte esponeva dei bilanci falsi vantando crediti milionari nei confronti della propria partecipante, che effettivamente erano del tutto inesistenti. Quindi una situazione che veramente appare inverosimile da un punto di vista generale. Però, nonostante non ci fossero queste condizioni, la rateizzazione veniva concessa? La rateizzazione veniva concessa e quindi sono aspetti oggetto di approfondimento anche in questa sede. I soldi venivano utilizzati per pagare il personale sovradimensionato rispetto ai servizi che venivano offerti e non mancavano favoritismi. Alcuni degli indagati arrivavano a guadagnare fino a 190 mila euro l'anno. Abbiamo una media di stipendi che vanno oltre 80-90 mila euro e mi riferisco alle posizioni apicali nell'ambito della società di servizi. Il decreto prevede il sequestro di tre immobili, nonché i saldi attivi di conti correnti dei soggetti indagati. Il sistema associativo regionale di confartigianato si dichiara estraneo e, per certi versi, vittima delle condotte della CONFART e sta esaminando con i propri legali ogni tutela per l'associazione e per le imprese, sia per i danni economici che d'immagine. La confartigianato, che ha espulso i dirigenti sotto inchiesta, sta anche valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel processo che si aprirà. Il procuratore Manfredi Palumbo stamattina ha sottolineato invece come il sistema pesarese sia avvocato all'illegalità e come questo poi va da discapito dei ragazzi seri. Questa, ha detto, è stata una buffata a spese dello Stato.